Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Isaia, capitolo 35, verso 3. La forza del Signore Tante volte la stanchezza ci assale. Vuoi per lo sforzo fisico e mentale che il lavoro ci procura, vuoi per le preoccupazioni e le ansietà che custodiamo nel cuore. Certo, essa è capace di infiacchirci, di indebolirci, di renderci, insomma, completamente inattivi. E ancora di più, può fare la stanchezza spirituale. Le delusioni, gli scoraggiamenti, le prove, sono tali da determinare una pesante limitazione al nostro agire. Quest'oggi, però, il Signore ci invita a fortificarci, a mettere cioè da parte ogni cattivo pensiero e continuare lungo il sentiero che conduce al cielo. Egli stesso sarà con noi lungo il cammino, ci condurrà per mano, soltanto se glielo permettiamo. Insomma, non fermiamoci. Tu non sei solo, hai Gesù al tuo fianco, se vuoi. È lui che ti incoraggia, proprio come un amico, incita l'atleta a non mollare a pochi metri dal traguardo. Insomma, la stanchezza può essere tanta, ma il premio ne farà dimenticare l'afflizione. Fortificati in Gesù e non avere timore di terminare la tua gara, perché Egli ti darà la forza per arrivare alla fine. Egli ti darà la forza per arrivare alla fine.